calignaia 13 agosto 2019 una bella giornata di sole e di mare anche se l'acqua era un pochino increspata con una risacca sulla quale bisognava fare attenzione oggi parleremo rapidamente del fondale della baia di calignaia la quale è molto bassa il fondale è composto essenzialmente da massi e sassi e scendono dolcemente verso praticamente il centro della baia all'interno della quale nella zona centrale e una decina di metri prospicenti dai massi centrali c'è un'enorme chiazza di sabbia enorme che praticamente interrompe diciamo la presenza di massi sbacquei mentre sul fianco sinistro della baia c'è un bellissimo tappeto di alghe verdi poi successivamente il fondale tende a scendere in modo più incisivo con un bellissimo blu profondo grazie a tutti